grande entusiasmo questa mattina presso la mostra d'oltremare per l'inaugurazione della prima edizione del napoli motor show una tre giorni che metterà in esposizione tutto quello che riguarda la dimensione auto e moto con grandi attrazioni quali supercar da capogiro veicoli elettrici ed ibridi moto ed auto d'epoca e momenti di puro divertimento assicurati da spettacolo in pista freestyle e tanto altro ad accompagnare il taglio del nastro del primo grande evento riservato ad auto e moto tutto partenopeo il sindaco di napoli luigi de magistris il testimonial della manifestazione giancarlo fisichella i vertici della mgf events management attacco marco galletti l'assessore all'asporto del comune di napoli ciro borriello la presidente della mostra d'oltremare donate la chiodo ed il consigliere delegato giuseppe oliviero fantastica insomma parte il clima che è unico essendo anche testimonia di questo evento non posso essere che orgoglioso per quello che sto vedendo per come sta iniziando il primo evento speriamo di tanti altri e una disponibilità e un'accoglienza unica che non ho mai trovato quindi complimenti a tutta la cittadina di napoli sensazioni positive bellissime ho riscoperto una napoli che non conoscevo è un popolo appassionato di motore un popolo che sta rispondendo in maniera favolosa una città meravigliosa sono convinto che questa sarà all'inizio di veramente una serie di motoshow importante perché napoli se lo merita